Lo chef Ciccio Sultano con il ristorante Il Duomo porta a casa tre cappelli e il premio Berlucchi per la miglior selezione di bollicine compiuta dallo chef insieme al sommelier Paolo Belluardo. Alla Leopolda di Firenze per lo speciale evento che Pitti Immagine riserva alle guide dell'Espresso 2016, il ristorante di Ragusa e Ibla ha totalizzato come lo scorso anno il punteggio di 18,5 punti e si è conquistato a pieno titolo un posto nella nuova edizione delle guide ristoranti d'Italia 2016 e vini d'Italia 2016 che si sono confermate il must nel panorama enologico e nell'ambito ristorativo su scala nazionale. Orgoglioso del risultato lo chef Ciccio Sultano, nel corso della premiazione infatti sul palco è stato detto che la migliore ristorazione italiana è rappresentata da Bolzano Sino a Ragusa. Oggi siamo a pieno titolo nell'Olimpo della gastronomia italiana, dichiarato Sultano. Tre cappelle è un trionfo anche per il territorio ebleo che viene raccontato attraverso le pietanze proposte. Lo chef siciliano ha sottolineato come la conoscenza della provincia di Ragusa passi anche attraverso la cultura enogastronomica che è stata valorizzata con cibi che raccontano un territorio attraverso un'esperienza di gusto eccellente.